Ciao, benvenuta in questo nuovo video. Oggi sono gasatissima perché finalmente, dopo due anni, sto per tornare dal mio amato Primark e ovviamente ti porterò con me. Andremo a vedere la nuova collezione, cosa c'è di bello il negozio e soprattutto vedremo se ci sono già delle cose autunnali. Quindi ci vediamo tra due secondi dopo la sigla direttamente in store. Siamo arrivati da Primark. Ed eccoci da Primark. Ci sono ancora tante collettive, pure devo dire. E già vedo cose autunnali. 14. A me servirebbe questo. È molto carino. Mi piace anche il colore. Questo qui viene 20 euro. Belle queste scappe. Mi piacciono tantissimo. Bella. 18 euro. Pantaloni d'argo. Che questi sono molto carini. Questo è 10. Bella questa. Un po' troppo crop però. Per me che sono fredolosa. Mi sono già subito innamorata di questa. Questo maglioncino con la finta camicia sotto. Carinissimo. 19 euro. Questo soprabito. Questo che era 45. 25. E' altra scatta. Anche se è piccolina. Assomiglia a quella che mi son comprata qui due anni fa. Qua sta a 12 questa. Uh che morbida. Mi piace tantissimo il tessuto di questa camicia. Solo che è un po' troppo lunga. 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 Questa è 9 euro. Wow. Vediamo se trovo qualcosa di Barbie. Bella questa. Poi ci sono questi, dei Chicago Bulls o Bills, dell'NBA. Tutte queste cose tipo NBA a me piacciono. La tutina, quanto costano più o meno, 16 questo. C'è Stitch. Bugs Bunny, c'è anche un pantaloncino. Wow, questa felpa mi stra piace con la scritta Yale, in stile college, bella, bella, 45. C'è anche Berkeley. E il Michigan State. Non ho mai detto queste cose delle principesse. Sono tanti, 12 questa. Qui c'è il Mickey Mouse. Bellino questo. Winnie the Pooh. Stitch. Stitch. Tutto a 12. È praticamente una tuta completa. Perché non c'è nulla di Barbie. Questo è 7, mamma mia che corte. Minnie. Le principesse della Disney. Oh, queste sono, come si chiamano? Le super chicche. C'è anche Dumbo. Questo chi è? Simone e Pumba. Simone e Pumba. C'è Bugs Bunny. C'è anche la Sirenetta. Gli Aristogatti. C'è Minou. Oh, che carine. Queste sono scontate. Ci sono ancora delle cose scontate qui. Questo qui che ha 4 scontate. Il prezzo pieno era 7. E poi qui ci sono sempre Beauty Gaze. Tutto della Disney. C'è questo grande. Questo lo zainetto. Le ciabatte. Tutto di Mickey Mouse. Ci sono anche i cerchetti. E il portafoglio. costa 6 euro. Poi qua ci sono i jeans. E questa? Bella anche questa. Lake Berkeley. E non hai uno con pulico come mai ha? Questi shorts sono bellissimi. A 10 euro. Io non vedo l'ora che arrivi l'autunno. Anche la mia stagione preferita. Pelpa. Io ho questa grigia. Che l'ho presa due anni fa. Costano 9 le pelpe. E poi mi dice la parte sotto che anche questa costa 9 euro. Però se devo prendere una pelpa io la vorrei particolare. Le calze della K. E poi questo lì la mi piace. Qua ci sono altre pelpe. sempre 9. Queste sono senza zip però. Questa qui. Mi piace molto questa. Questa qui rosa con la scritta Soho London. Questa è carina. Soprattutto questa tuta mi piace molto. Questi cardigan molto carini. A 19 euro. Poi c'è questo. Gardia 15. Nero. E 13. Ma che bella questa. A sette. Sono borsa di acqua calda No Queste sono belle Eppure borsa di acqua calda La pecora E queste invece quanto vengono? Dov'è il prezzo? 8 E c'è anche l'unicorno Sempre borsa d'acqua calda Unicorno Poi c'è di Stitch La borsa d'acqua calda E questa Anche queste sono borsa d'acqua calda Lunghe così Non le avevo mai viste E c'è il rosa Wow Sono però a collo Aspetta queste qui sono a V Però ci sono quelle a collo alto Queste sono pure a V Ma questa è quella a collo alto Eccola qui Col collo al lupetto Queste sono le mie preferite 10 euro C'è anche Buxia Ancora Maglioncini Che carino che è questo Questo mi piace Mi piace il colore Io poi adoro i maglioncini di Primark Questo è bellino A 17 euro E c'è anche verde militare Mermaid A 15 euro Ah questo è come quello Paris Che ho visto No questo è New York E questo è Paris Però mancava la doppia excessa E poi ci sono altre maglioncini A 15 In tantissimo colore E poi sono questi cardigan Di cui mi sono innamorata E mi piace tantissimo Questo colore qui Il cardigan Però è bello E questi costano 13 euro C'è di questo colore Beige Poi c'è qua Un maglioncino Grigio Maglioncino Panna A 17 euro C'è lilla E verde Altri maglioncini Verde e nero Molto bello questo L'abbinamento Rosa e grigio Mi piace tantissimo Sarebbe questo qui A 13 C'è anche di questo Bellissimo colore Qua c'è questo Che mi piace E qua ce ne sono altri Bello Questo Poi ci sono maglie A maniche lunghe 13 euro Questo bel maglione Che c'è anche Lilla A 13 Se era un po' più scuro Era più carino Proccia nero Cardigan 13 Qui c'è questa maglia A 14 Bello questo giubbottino Insieme il pelle 18 euro Altri cardigan A 15 euro Grigio chiaro Grigio scuro Altri cardigan Tutti a 14 Tutti a 14 C'è anche Verde militare E il mio preferito E questo qui Invece Poi ci sono I giubbottini In simipelle A 19 euro C'è anche In grigio chiaro In grigio chiaro Ci sono quelli in jeans C'è anche bianco A 19 Questo mi piace tanto Scorri acqua Scorri acqua A 14 euro Bello rosa E c'è questa borsa 11 euro E a me servirebbe questo Però il cappuccio Non si può smontare Questo è carino A 20 Quello che io però È più chiaro È un rosà È bello Rispetto a questo Questo è Troppo forte Il cardigan C'è anche Bordeaux Poi ci sono Questi modellini Quello che io Era questo qui Però il rosa A 17 Esatto Questo Non c'è questo Qui c'è la zona Sportiva Bella questa bottiglia Gonna Rissettata 16 Pantaloni Neri A 20 Camicia Riga Bellina Uniborsetta Bella questa camicia Sono molto larghe Lunghi Sì Per questo io prendo La XXS Perché sennò Ci muoto dentro Le loro cose In realtà Sono una S Negli altri negozi Ma Da Primark Devo per forza Optare per la XXS Perché sennò Non vanno bene Qui ci sono due altre cose Camice Camicia Camicia Connellina in simile pelle Questo è carino A 12€ E mi piace anche questa qui A 12€ C'è i pantaloncini sotto? No Solo su Gli style Trovo le gonne con i pantaloncini sotto Mi piace molto Mi piace molto La camicia Con Questo collettino così Nero Non so se è questa Sì 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 Questa mi piace molto 14 Però Spesso si allargano 17€ Cioè ingrassano la figura Altri pantalonici Sono quelli cargo Reparto jeans Camice di jeans Pantaloni Ci sono i jeans Bella questa Camicia stile boscaiolo Mi stra piace 10€ Bella 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 Queste sono tutte le sciarpe Io quasi quasi metterei questa Perché sto gelando C'è l'aria condizionata Palla Questa mi stra piace Proprio il colore Mi piace E te Costa Quanto costi tu 9€ Però È stramorbida Calda Proprio bella questa Devo dire che da Primark C'erano delle cose Molto carine Poi io non ci andavo Da ben due anni E siamo stati al suo interno Ben tre ore Veramente tantissimo Ovviamente ho fatto shopping Presto arriverà il video Dove ti mostrerò Tutte le cose Che ho acquistato Da Primark Quindi se non sei ancora Iscritto al canale Ti invito a farlo Così non lo perderai E non perderai Neanche i prossimi video Che pubblicherò Io spero che questo Ti sia piaciuto Se è così Ti invito a lasciarmi Un bel pollice in su Nel frattempo Dietro di me C'è chi mangia le Pringles Io ti auguro Una buona giornata Ti mando Un grandissimo bacio E se ti va Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Ciao